Anche Italia 2 è protagonista a questo premio nazionale di giornalismo. Perino, emozionato? Un poco. Come sempre quando si diceva un riconoscimento esiste sempre un poco di emozione. Cosa significa questo riconoscimento per te? È un riconoscimento che dedico innanzitutto ai miei genitori, alla memoria, e soprattutto per la mia trasmissione, una trasmissione di servizio a disposizione dei cittadini. Io mi sforzo di essere sempre semplici, come è noto le leggi purtroppo non sono molto chiare, e io mi sforzo appunto per far capire a tutti, il che non è semplice, ma grazie poi a tante persone che mi fermano per strada, mi rendo conto che qualcosa alla trasmissione ha servito. La trasmissione che è il comma 2 che va in onda ovviamente su Italia 2, grazie. Una vita, una mezza vita dietro le telecamere, una volta tanto anche davanti alle telecamere per Rossella Coiro per questo premio. Insomma, è bello questo, anche se si legge sul tuo viso, si vede, traspare una grande emozione. Sono onorata di ricevere questo premio, ringrazio la giuria per avermi premiato, ma soprattutto lo dedico a chi mi ha permesso di fare questo lavoro e chi è stato il mio maestro. Ringrazio anche il direttore che mi ha insegnato ad essere determinata e decisa, che è molto importante.